Oggi parliamo brevemente di cosa è bene condividere o non condividere sui social network. Spesso si leggono presunti esperti affermare l'importanza di verificare le fonti, ma questo è ampiamente sopravvalutato e palesemente falso. L'attendibilità di una notizia si valuta infatti da parametri ben più solidi. Un ottimo metodo, per esempio, è quello di controllare attentamente il numero dei like, dei commenti e soprattutto delle condivisioni. Un video o un contenuto molto condiviso è infatti garanzia di affidabilità. Non è necessario perdere tempo per verificare le fonti. Se torturi i dati abbastanza, alla fine confesseranno quello che vuoi, diceva Darrell Huff e aveva senz'altro ragione. Se in rete trovate qualche smentita alla notizia che avete letto, questo non vuol dire che sia falsa, anzi, è invece la prova che l'affermazione dà fastidio a qualcuno e screditandola tenta di metterla a tacere. È buona norma anche diffidare dalle informazioni che appaiono sui canali ufficiali perché troppo spesso condividono notizie per scopi commerciali o di interesse privato. Preferite invece siti indipendenti, canali paralleli e sommersi, dove avrete la certezza di trovare informazioni scomode e non parziali. Quindi, ricapitolando, quando decidete di condividere qualcosa sui social network, seguite questi tre semplici punti. Basatevi sul numero di like, di commenti e condivisioni. Non perdete tempo nella verifica delle cosiddette fonti. Accertatevi che il contenuto provenga da canali non ufficiali e indipendenti.